La differenza è bellezza e non sempre la bellezza è qualcosa di aggiunto, può essere anche una mancanza. Corre su quest'idea non c'è differenza, il festival organizzato dal teatro scientifico è in collaborazione con Dismappa, in programma fino a lunedì prossimo in Gran Guardia. Incontri, proiezioni di film, mostre fotografiche, spettacoli teatrali, tutto questo in un festival che si pone come obiettivo quello dell'abbattimento delle barriere di ogni tipo, quindi non solo architettoniche ma anche culturali. Non c'è differenza perché non bisogna avere paura dell'altro da sé, siamo tutti diversi ed è questa la nostra bellezza. In genere si ritiene che la bellezza sia essere diversi solo in meglio, a volte può essere una mancanza, a volte può essere un talento, a volte può essere mettere a disposizione il proprio punto di vista. In vista della giornata mondiale della disabilità, prevista per domenica 3 dicembre, l'associazione Dismappa lancia un appello. Il messaggio che continuo a mandare, di cui è una campagna video che ormai ha visto migliaia di persone partecipare, è accessibile meglio, dove si può andare con una carrozzina tutti possono andare, dove c'è uno scalino la mia libertà è molto limitata e visto che la Costituzione prevede che i cittadini possano liberamente percorrere tutto lo Stato italiano, mi piacerebbe che non ci fossero più scalini.